Aio Ciamanin, a parte di Ciamanin E voi invece di A Ciamanin Ciamanin A Ciamanin Aio Noi siamo già andati a spegnere Il camminare è quella, guarda Questa c'è l'aggela plastico Beh, abbiamo un busto pronto Aggela plastico Eh, così Così Adesso Luigi andiamo al Boscaini Boscaini? Al Boscaini, siamo indocle Eh, uno se non sai Qui che sarà entanto? Andiamo via con la macchina Luigi Sì Chi è assieme a Aselogna? A Aselogna Alla in fondo a giri sinistra 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 Alla in fondo a giri Grazie. Oh, che bello! Siamo all'ex mercatone. Abbigliamento, scarpe, che è un po' di tutto. Un pesante. Grazie. Alla prossima. E' un e due, con due pigiama e mi sopporto. Come uno è qui? Ne ho uno già a casa. Carri di telefonia, grazie. Arrivi ad oggi! Grazie a tutti!